Buongiorno, 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 oggi è la festa del Santo Padrono, ma i ragazzi ti vedo qua, ragazzi non vi godete la festa, raccontateci, raccontateci, professoressa fatevi un po' poco più avanti, altrimenti la telecamera non vi riprende, raccontateci perché siete stati convocati qua, vorremmo riprendere omaggio prima, vorremmo fare una manifestazione per il nostro Santo Padrono Sanchele e poi per rendere omaggio ai capitoli bravissima, grazie professoressa di aver portato tutti questi ragazzi, voi sapete l'importanza dell'educazione, dell'infanzia e della pedagogia, ve ne siamo grati e vi ringraziamo Grazie, bravi Grazie